con la mano sinistra appoggio la zona non pare con la mano sinistra prendo un posto destro spingo in alto la zona più opposta sollevo un po' per la scapola da terra appoggio e ora la parte imposta la mano destra prendo il corso sinistra spingo in alto ok mettiamo le mani sotto la nuca spingo bene la zona lomaggio mi aiuto con la pressione sulla fit e porto il mento in direzione all'esterno attenziono ok secondo e scendo inspiro alto e spero che dopo scendo inspiro chiudo e spiro e appoggio porto le braccia dietro parallelamente a terra e cerco di aiutarmi a spingere parallelamente a terra e la colonna deve rimanere sempre appoggiata giù ok qualche secondo insperate con la lingua spinta sugli incisivi incisivi ok ecco le mani sotto dietro porto le piante di piedi sulla fit comincio a lavorare in apertura e in straduando le armi quindi andiamo all'ossigenare questa parte subito l'appoggio freddo e torno inspiro apro respiro respiro torno inspiro apro respiro torno inspiro apro inspiro torno e torno continuo a continuo continuo compito cominciamo a stare con una rata una volta razione flessione dorsale per piede e torno andro razione e torno e andiamo a fare questo rumore letto mi guarda la porta al petto ma me la distendo porto le braccia dietro e cambio inspira e spira una volta che porto il ginocchio verso il petto devo spingere anche se un po' più in modo lateralmente diciamo la corona terra nel senso che mi spiego un po' più a destra non fa niente questo vascolare ci aiuta a spingere tutta la superficie della corona a terra andiamo adesso la gamba sinistra sulla FIP scendiamo un piccolo barco alla nostra destra in questo modo subiamo la gamba a destra extra ruota l'anca scendo di 45 gradi mi raccomando siamo a metà contratto e torno ehi